Buonasera a tutti voi. Allora ci troviamo al secondo appuntamento in considerazione del fatto che il seminario 2 è stato un seminario di appendice anche se noi stiamo al terzo livello. Allora continuiamo il nostro approfondimento sulla materia che ci circonda. Terremo probabilmente ancora una lezione su questo tipo di approccio. Vedremo dei filmati. Parleremo fra poco di due metalli importanti, il ferro e il rame, che sono tra l'altro due elementi chimici presenti in natura come tutti gli altri 92, ma che hanno caratterizzato nella storia dell'uomo delle particolarità. Non affronteremo tutti questi discorsi, parleremo da un punto di vista della materia di questi due metalli e ricordiamo che fanno parte dei famosi sette metalli dell'antichità, insieme all'oro, all'argento, allo stagno e al mercurio. Questi due metalli sono caratterizzati da una storia antica. Parlo del ferro e del rame, il rame ovviamente soprattutto. Bene, io direi di iniziare subito con i filmati. Sto cercando di perfezionare il mio sistema di approccio su queste cose, anzi c'è anche qualche novità che voglio sperimentare nel nostro prossimo seminario. Mi chiedo scusa, sembra dell'imperfezione, ma da solo io cerco di gestirmi regia, montaggio e preparazione di questi eventi seminaristici, chiamiamoli fra virgolette così, perché sono, come avete notato, una banalità, che però possono risvegliare delle cose appassionevoli nelle menti affascinate della conoscenza. Quindi, io direi di bando alle ciance, iniziamo subito col primo filmato. Prego. Questo che state osservando è rame allo stato nativo. Il rame è un elemento chimico dell'antichità. Pensate che è stato trovato un pendaglio, anche se di materiale grezzo, non lavorato quindi, nel Kurdistan e, diciamo, è stato datato 12.000 anni. Tuttavia, per essere precisi, il rame è comunque un elemento che l'uomo ha cominciato a lavorare da circa 6.000 anni fa, forse qualche migliaio di anni in più, in relazione a qualche ritrovato che è stato reperito in Africa. Ma questo è il rame, diciamo, da un punto di vista, ecco, estratto dal minerale e purificato, quindi lavorato dall'uomo moderno. Questi che invece vi mostrerò adesso, sono minerali che contengono rame. Questo che state osservando è il crisocolla, che è un silicato di rame. Per differenziarlo voglio mostrarvi anche quest'altro minerale a base di rame, che è la malachite, che è un carbonato basico di rame. C'è ancora un altro, diciamo, oggetto che posso farvi mostrare, che è invece questo, che è calcopirite, cioè è solfuro di rame con contenuti di ferro. Questo materiale contiene quindi anche un po' di zolfo. Eccolo qua lo zolfo. Questo che state osservando è zolfo puro, anche se è un minerale, cioè è stato raccolto dalla natura. Lo zolfo è l'elemento chimico numero 16, quindi è il sedicesimo della tavola periodica. È un non metallo, ma questo elemento può combinarsi con questi elementi metallici che prima abbiamo visto. Ecco, per esempio, se io combino il rame con lo zolfo, questi due elementi chimici combinati insieme possono dar vita a minerali di questo tipo, anche se questo è un solfuro che contiene anche ferro. Il solfuro di ferro è la calcocite, che qui però mi manca l'esemplare da mostrarvi. Quindi attenzione, questo è un elemento puro, perché è solo zolfo, numero atomico 16. Questo invece è una composizione di elementi, quindi questo minerale che prima abbiamo osservato, la crisocolla, è un minerale che contiene silicio, ossigeno, idrogeno e anche rame. Queste sono le caratteristiche delle composizioni atomiche che possono dar vita ai vari prodotti chimici, quindi il rame, il rame appunto puro, oppure materiali minerali che sono fatti con il rame ma che inglobano altri elementi chimici. La caratteristica dei nostri elementi chimici a strutturarsi, combinarsi per dar vita a un'infinità di possibilità è una delle ragioni meravigliose dell'esistenza dell'universo così come oggi noi lo conosciamo. Rame, non dimentichiamacelo, viene dal latino aeramen ma anche dal latino cuprum e cuprum è certamente una desinenza collegata all'isola di Cipro all'interno della quale c'erano le più antiche sfruttate miniere di rame. Tant'è vero che questo nome cuprum dal latino è collegato poi all'inflessione di linguaggio delle varie lingue nostre europee, per esempio in inglese rame infatti si dice cupper, oppure in francese couve, in spagnolo cobre eccetera eccetera. Quindi questa desinenza noi la troviamo nelle lingue che esprimono diciamo direttamente il nome di questo metallo. Dovete sapere che lo zolfo a contatto con l'ossigeno forma l'anidride solforosa, di conseguenza se io brucio ecco una parte di questo minerale, sento questo odore caratteristico, il minerale comincia a infiammarsi producendo una classica fiammella di colore bluastro ed lo zolfo si trasforma in anidride solforosa, SO2. Ecco questa è la ragione per la quale da queste rocce contenente diciamo rame e zolfo io posso estrarre il rame facendo degli arrostimenti con prevalenza di quanti, diciamo in cui ci sia un riverbero di ossigeno. Quando si produce un arrostimento di questo materiale l'ossigeno atmosferico si collega con lo zolfo contenuto all'interno di questi minerali e da un certo punto esce il minerale prima grezzo e poi potrebbe essere successivamente purificato. Il rame fonde a una temperatura bassissima relativamente ad altri metalli, per esempio 1083 gradi, che è una temperatura riguardevole nel senso che è una temperatura per la quale è molto probabile che casualmente nelle fornaci antiche sia stata raggiunta e quindi siano state raggiunte le condizioni per le quali poi gli antichi hanno visto fuoriuscire diciamo dalle pietre che circondavano il fuoco questo materiale che poi quando si è solidificato ha diciamo ammeravigliato e ha permesso loro di conoscere questo prodotto. Così è nato il rame diciamo nell'antichità come abbiamo detto circa 6.000 anni fa. Anche questo è un altro materiale questo è un minerale di ematite questo non contiene rame ma contiene una grande quantità di ferro. L'ematite è un ossido di ferro di conseguenza qui si trova ferro e ossigeno ed è uno dei minerali su cui noi possiamo basarci per l'estrazione del ferro. Il ferro però fonde a 1550 gradi quindi diciamo questo diciamo già ci dà un'informazione all'incirca sul fatto che è stato quindi più difficile raggiungere la conoscenza del ferro anche se vogliamo aggiungere la sua facile reattività col con l'ossigeno che ne ha impedito subito immediatamente il riconoscimento nella storia però diciamo all'incirca 1200 anni fa con gli titi ma massimo 700 anni fa diciamo in questo periodo noi datiamo l'età del ferro cioè l'uomo ha cominciato a conoscere questo prodotto. Ecco il ferro come si presenta oggi da un po' questo è un lingotto diciamo di ferro come si presenta oggi anche questo è un altro lingotto di materiale ferroso ma non è l'unico minerale un altro minerale che contiene grandi quantità di ferro è il solfuro di ferro ecco questa è la pirite addirittura questa pirite se voi fate caso produce dei cristalli regolari di tipo cubico di cui qui ho addirittura un esempio ecco questo oggetto che ho fra le mani è affascinante sapere che è la natura che lo ha preparato in queste condizioni cioè è un perfetto diciamo cristallo di solfuro di ferro quindi significa che anche in questo caso noi abbiamo avuto a contatto con il ferro questo materiale lo zolfo quindi zolfo e ferro hanno prodotto questo minerale che si chiama solfuro di ferro che è un minerale tramite il quale io posso estrarre il ferro sempre con procedimenti per esempio di arrostimento anche se ripeto col ferro le condizioni sono poco più difficili perché ci vogliono temperature più elevate e ci vogliono condizioni di riverbero diverse che sono state però poi scoperte sicuramente casualmente nel tempo e l'uomo ha potuto utilizzare le diciamo le capacità di questo elemento che rispetto al rame è più duro ha una sua caratteristica una sua lavorabilità però essendo più duro ha potuto produrre delle armi ecco sempre più potenti poi questa è la una delle ragioni dello sviluppo di certe tecnologie non il fatto della 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 guerra che ne ha prodotto e ne ha avvantaggiato diciamo gli studi analitici su questi problemi vediamo adesso molto brevemente ovviamente senza entrare nei dettagli più o meno ecco come si fa a estrarre il materiale e il ferro l'elemento il metallo ferro da una roccia per esempio di ematite ecco facciamo vediamo quest'ultimo breve filmato e poi ci diciamo finalizziamo meglio le cose nelle puntate successive come si fa per esempio ad estrarre diciamo da questa massa di ematite il ferro innanzitutto questa questo minerale deve essere polverizzato in modo sottile poi può essere messo a contatto con il carbonio ecco questo è un pezzo di carbonio carbone di legna ma in effetti è un carbonio un po trattato quello che può essere messo in un alto forno anche se questi sono probabilmente diciamo i prodotti che invece utilizzavano nell'antichità gli uomini se io metto del carbonio in presenza di questo minerale polverizzato e raggiungo particolari temperature il carbonio estrarrà l'ossigeno contenuto nella molecola di l'ematite e quindi la molecola di ematite che contiene ossigeno e ferro io a un certo punto estraggo il ferro che si legherà al carbonio e quindi si libererà sotto forma gassosa questo procedimento provocherà anche una riduzione della massa di sostanze che si trovano nel crogiolo chiamiamolo così ecco perché questo fenomeno fu osservato cioè fu osservato che quando si otteneva il metallo si otteneva un era una frazione del materiale iniziale che veniva introdotto all'interno del crogiolo e di conseguenza si cominciò a parlare di riduzione ma infatti da un punto di vista chimico il ferro che in questo minerale è sotto forma ossidata quando viene estratto si dice che in forma ridotta oggi il concetto di riduzione e ossidazione è un concetto chimico che ha una valenza e un significato diverso che noi studieremo e approfondiremo in seguito ma questo è l'origine del termine riduzione che noi oggi utilizziamo in chimica cioè dipende da questa diciamo caratteristica del fatto che quando noi mettevamo del carbone nel materiale nel crogiolo contenente i materiali che dovevano essere fusi noi veniva estratta una quantità di ferro che era una piccolissima parte rispetto alla quantità iniziale e quindi si diceva che il prodotto era ridotto bene allora nel filmato non è che sia stato molto molto chiaro nel descrivere il procedimento nel quale il carbone estrae il ferro ve lo vogliamo lo vogliamo chiarire un attimino allora in poche parole la presenza del carbone che guarda caso poi è presente nel nelle fornaci no perché il legno è stato utilizzato per poter accendere il fuoco quindi la temperatura diciamo viene sviluppata dal dal legno che arde che poi si trasforma in cenere però c'è una fase intermedia in cui la legna diventa carbone carbone di legna bene quel carbone in particolari condizioni che gli antichi hanno diciamo come dire ottenuto con sperimentazioni e tentativi e anche situazioni casuali si è creata poi quella condizione per la quale il carbone quindi carbonio diciamo in quelle condizioni di temperatura estraeva dal materiale le matite per esempio l'ossigeno che era contenuto nella molecola delle matite l'ossigeno veniva rubato tramite il carbone e il carbone quindi 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 veniva tirato in alto come anidride carbonica come appunto avete visto la formula che è uscita diciamo mentre il filmato era in in esecuzione a tal guisa quindi ecco è evidente che quest'operazione estraeva ossigeno dalla massa di matite quindi rimaneva il ferro grezzo ovviamente che poi si andava a solidificare questa è la ragione per la quale noi siamo riusciti a estrarre il ferro dalla roccia tenete presente che la ruggine è quel procedimento opposto che la natura tende tende a effettuare in maniera automatica perché vuole ritornare ad avere il ferro con sé il ferro nella sua condizione di massima stabilità è quella che ossidata quindi il ferro rimane vuole tornare nella roccia dove l'uomo è stato capace di estrarlo con i mezzi artificiali ed ecco perché la ruggine è come dire l'operazione chimica opposta a quella che noi abbiamo descritto in questa sequenza di filmato bene miglioreremo ancora gli aspetti comunicativi e quindi addirittura intenzione di effettuare anche altri particolari esperimenti di diciamo di comunicazione su questo su questi seminari ma a questo punto finiamolo qua vi ringrazio del vostro ascolto e ci vediamo al nostro prossimo appuntamento